Maradona a Napoli, cosa ne pensa? Lei ha parlato che è cultura, quindi c'era stata la polemica del Teatro San Carlo e l'ha anche invitato a Mantio per la cittadinanza narare. Ma non era un concetto ampio quello di cultura, voglio chiarire, è chiaro, una cosa è la cultura del Teatro San Carlo, una cosa è la cultura della poesia, della letteratura, della scultura, della musica e di tutte le articolazioni, ma anche lo sport è una forma di cultura in qualche modo perché il genio di Maradona non è qualcosa di comune e quando quel genio affascina tanti ragazzi che nel periodo in cui c'era Maradona si andavano a iscrivere alle scuole di calcio, volevano fare calcio, tu li sottrai in qualche modo da territori sbagliati, in qualche modo fai capire che anche attraverso il calcio ci può stare l'emancipazione, all'epoca Napoli visse un periodo straordinario perché attraverso lo sport si scalavano vetti di statistiche che sembravano che non si potevano mai raggiungere, dove la Juve, il Milan, l'Inter sembravano squadre irraggiungibili, invece Maradona ha dimostrato che tutto è possibile. Poi non trovo nessuno scandalo che ci sia uno spettacolo, immagino molto bello stasera al San Carlo in cui possa entrare Maradona così come quando vogli fortemente che Nino D'Angelo entrasse al Teatro San Carlo, poi il Teatro San Carlo è altro, il Teatro San Carlo di cui sono presidente da quasi sei anni, il teatro più bello, più importante e come ha detto Maradona, riferendosi a noi napoletani, teniamo il teatro più bello del mondo. Maradona già si sente cittadino napoletano, lo è di fatto e a breve lo sarà anche formalmente, l'ha detto lui ieri, noi napoletani ci vuole un grande evento popolare, stasera non è un evento per tutti, è un bel evento, ringrazio Alessandro Siani che ha fatto una cosa molto bella, sono convinto che sarà un grande successo. Poi Diego ha bisogno però di un evento popolare perché Diego per quanto riguarda il genio calcistico è un bene comune, quindi ci vuole lo Stadio San Paolo, Piazza Prebiscito, spero a maggio che sarebbe il mese migliore considerando il ricordo di 30 anni fa e ho visto Diego veramente tranquillo, contento di stare a Napoli, anche le dichiarazioni che ha fatto, anche quello che ha detto vanno nella direzione giusta di una grande Napoli. Grazie. Grazie.